Assessore, sul Carso Triestino c'è una realtà come il sentiero Ressel, pensato per i non vedenti, che deve ripartire, sono degli sblocchi burocratici da fare, come si può intervenire? Intanto partiamo dalle cose positive, ci sono spesso delle cose che non conosciamo in questa regione che invece andrebbero ancora più valorizzate rispetto a quanto è stato fatto in passato. Il sentiero Ressel è uno di questi, ovviamente ha dei problemi in questo momento di natura tecnica rispetto al sentiero adibito ai disabili, è compito della regione ma credo anche dell'amministrazione di Trieste e anche degli usi civici è trovare una sinergia per risolverlo al più presto perché ovviamente ci sono delle famiglie che hanno trovato in questo sentiero una risposta eccezionale anche alle loro difficoltà e ovviamente adesso devono poterlo tornare a trovare integro e con le risposte adatte. Quindi l'impegno mio e credo dell'amministrazione regionale è risolvere al più presto questa parte. Ricordiamoci però che rimane comunque un sentiero eccezionale che collega Basovizza a Lipizza, lo collega in maniera splendida e permettendo alle persone ancora oggi di poter godere della bellezza del Carso.